cosa possiamo apprendere dal vangelo di oggi siamo anzitutto invitati ad avere fiducia nella parola di dio ciò che annuncia lo compie la parola quotidiana della quale ci nutriamo compie noi ciò che proclama anche se i frutti non saranno subito visibili lo saranno il giorno in cui dovremo rendere testimonianza a dio davanti agli uomini dobbiamo attendere come ha fatto zaccaria per poi testimoniare con le parole la nostra fiducia nella parola di dio se lo pronunciamo a voce alta magari anche gli altri si sentiranno chiamati a leggerla e a metterla in pratica nella loro vita la parola chiave di oggi è mettere in pratica cioè testimoniare con le opere che crediamo al vangelo e ci lasciamo guidare dai consigli che dio ci dona attraverso la sua parola viva e vera hai la pazienza di attendere i tempi di dio per vedere il compimento delle sue promesse nella tua vita come rendi testimonianza a dio davanti agli uomini ande